di atti sport 24 benvenuti ad una nuova puntata di due metri la palla a nuoto vista da vicino abbiamo il piacere di avere oggi con noi il capitano della rarinantes salerno andrea scotti galletta ciao andrea benvenuto grazie per la tua disponibilità c'è andrea un saluto a tutti andrea dopo l'assaggio del girone preliminare di coppa italia si ritorna finalmente in basca che tipo di lavoro ha svolto la squadra in questo periodo in cui è mancato l'impegno agonistico ma diciamo dopo la coppa italia si è ripartiti quasi da zero perché siamo stati anche non partecipando al girone di palermo siamo stati implicati perché facemmo un allenamento con il posillipo risultò un positivo nel posillipo e quindi siamo dovuti fermare anche noi tamponi sierologici e tutti gli esami del caso e quindi si è ripartito con una preparazione frammentaria e diciamo le difficoltà di questo periodo covid di una programmazione è proprio questa non si riesce a programmare in una normale stagione un normale periodo anche i lavori che uno vuole fare ma si vive molto molto alla giornata però l'importanza della ripartenza è fondamentale per noi e per tutto il movimento dobbiamo essere dai traino essere responsabili e dare un segnale positivo che la palla nuoto è viva e può andare avanti quali saranno gli obiettivi che la società giallorossa vuole inseguire in quest'annata l'obiettivo era di migliorare la la bella figura fatta lo scorso anno da neopromossa dove nonostante la la pausa per per la pandemia eravamo eh a metà campionato ampiamente a metà classifica e diciamo stavamo viaggiando al di sopra delle nostre delle nostre possibilità eh ovviamente quest'anno che è cambiata tutta la formula eh sarà difficile capire dove riusciremo a collocarci ovviamente abbiamo questo girone dove la sfida con il quinto togliendo il ricco che ovviamente è fuori è fuori gara la sfida con il quinto ci permetterà eh in un senso o nell'altro di decidere diciamo il nostro destino nel caso in cui dovesse andare male ci lotteremo per per la salvezza nel caso in cui dovesse andare bene sarà un campionato dove noi possiamo vivere con la leggerezza di andare avanti e fare il meglio possibile e possibilmente migliorare il piazzamento dello scorso anno se l'anno scorso eh avevate dalla vostra anche l'effetto sorpresa oltre a un'ottima condizione atletica e dei consolidati automatismi di gioco questo fattore adesso verrà un attimo meno e gli avversari vi aspetteranno al barco qual è il salto di qualità che la squadra deve fare per compensare un attimo questo diciamo questa mancanza ma diciamo da un lato era c'era l'effetto sorpresa dall'altro c'era anche lo scotto di molti ragazzi sordienti in a1 che nonostante la la giovanità e la poca esperienza di molti c'era più del 50 per cento della squadra che non aveva mai giocato in serie a1 eh siamo riusciti comunque a fare un ottimo campionato quest'anno eh i ragazzi oltre a aver l'entusiasmo di della ripartenza devono dimostrare un consolidamente un'esperienza che hanno fatto l'anno scorso quindi mi aspetto comunque che sia questo che il gruppo storico di Salerno dia un un apporto maggiore proprio per mantenere lo standard dello scorso anno sabato vi attende alla vitale eh l'esordo in campionato con il quinto che tipo di partita ci possiamo aspettare eh diciamo noi non c'è andata giù diciamo la sconfitta nei playoff di gara tre di ormai tre anni fa e quindi siamo ancora in attesa della vendetta contro il quinto l'anno scorso stavamo vincendo di cinque gol ma alla fine pareggiarono la la partita quindi abbiamo ancora il dente avvenenato e vogliamo vogliamo assolutamente batterli nonostante qualche problemino dell'ultimo minuto che c'è Cuccovillo che ha avuto un problema un infortunio durante durante un allenamento lunedì eh sarà fermo per un bel po' eh quindi ci mancherà Nicola eh però la squadra è pronta e carica ha voglia di di battere un quinto che è rinnovato rispetto all'anno scorso ha cambiato parecchi giocatori e diciamo sarà curioso anche vedere come avranno avranno impostato il loro gioco credi che la formazione di Luccianti abbia le carte in regola per inserirsi nella lotta tra le prime otto? Eh dipende da da quello che faranno da quello che dimostreranno contro di noi io non credo che sia una sulla carta una formazione più attrezzata di noi anzi credo che noi ce la possiamo giocare benissimo alla pari e speriamo di dimostrare di meritare più noi che loro di valere questo queste prime otto posizioni sono curioso di vedere questo il nuovo giapponese che ne parlano come in Abba come il un fenomeno del del duemila quindi sono curioso di di vederlo so come giocano i giapponesi eh in passato le esperienze con la nazionale le ho visti il loro gioco è tutto di movimento di velocità e a volte anche di di confusione sono curioso di vedere di vedere come si comporterà nel campionato italiano. Come quando nasce il progetto della Water Polo Lions? Ma il progetto della Water Polo Lions era diciamo nella mia testa già da un po' eh volevo creare una nuova società eh che che facesse da da valvola di sfogo per molti ragazzi che nell'ultimo periodo non si erano trovati con determinate squadre e come abbiamo fatto eh nei primi anni a Scampia dove io facevo il direttore tecnico della Nantes Bomero e abbiamo ricreato un bacino di utenza di una cinquantina di ragazzi così visto che è chiusa la piscina di Scampia abbiamo pensato di fare una cosa eh in proprio ex nuovo con sette amici sette soci eh dove speriamo di con la nostra lungimiranza competenze con le idee che abbiamo di creare una cosa che a lungo tempo sia sostenibile dia un futuro ai ragazzi eh crei connessione e collaborazione con con le altre società della Campania perché la qualità che abbiamo in Campania non ce l'hanno tutte le regioni tolto la Liguria e eh il Lazio e diciamo la Sicilia che adesso con l'Ortigia è tornato a a veleggiare su ottimi su ottimi livelli la Campania è sempre stato il principale bacino di utenza e quindi credo che ci sia sia giunto il momento di creare un un una realtà alternativa che guardi ai ragazzi a 360 gradi dal discorso pallanotistico anche al discorso del del loro futuro io spero di poter dare una mano dare una mano e creare la possibilità ai ragazzi di fare sport di alto livello accoppiato sia un discorso lavorativo sia un discorso di studio di alto livello quindi il prossimo passaggio sarà anche la collaborazione con l'università creare progetti di dual career di studio e di sport ad alto livello dove l'università ci deve dare una mano ai ragazzi che fanno sport a alto livello ad agevolarli sulle date di esame su un tutor che gli può dare delle slide degli appunti e facilitare il percorso universitario in più l'inserimento anche nel mondo del lavoro per chi non ha voglia di studiare cercare qualche qualche realtà che ci possa supportare anche dando un una possibilità di lavoro ai nostri atleti questa è diciamo la l'idea è il nostro corso di base hai spiegato in maniera molto chiara le finalità del progetto ti chiedo dal punto di vista tecnico fino a dove vuole spingersi il progetto da te promosso è ovvio che adesso noi partiremo dal basso dal dalla promozione si spera di riuscire a a entrare a fare la la serie c visto il numero esiguo di squadre tra serie c e promozione io credo sto spingendo parlato anche col presidente trapanese di fare unificare le due categorie due gironi perché tra promozione src in totale potremmo essere sul 10 12 squadre credo che fare un girone unico invece di dividere sia più interessante un domani che si riparta con il movimento credo come in altre regioni d'italia lombardia in veneto in emilia romagna dove ci sono molte squadre di questo livello all'inizio un po più basso fanno gironi da 10 12 13 squadre credo che è una cosa che possiamo attuare benissimo anche noi in campagna quindi vorremmo partire ovviamente dal basso si spera dalla serie c se non sarà la serie c partiremo dalla promozione e ti dico la verità non metto limiti alla scalata che uno può fare io spero di riuscire a creare una cosa che nel tempo possa fare campionati importanti dalla b fino arrivare alla anche alla serie a due e poi dopo si vede perché il discorso sportivo oltre alla base di partenza che noi avremo vorrei allargare un discorso di academy a più impianti a più piscine ovviamente sarà sviluppato sarà sviluppato nel tempo sulla scorta diciamo di quello che succede un po' nel calcio con le varie scuole calcio che in tutto il mondo hanno le società più importanti è un altro ovviamente con le sinergie con accordi che stiamo stiamo trattando per la nuova stagione è ovvio che in un periodo come questo di emergenza sanitaria di covid mi prenderanno tutti per pazzo e per questa nuova per questa scelta di partire in questo momento ma io credo che compete con competenza e con le giuste accortenze si può programmare tutto anche una ripartenza in questo momento noi con la squadra ieri hanno fatto i ragazzi tutte le viste mediche in settimana faranno tutti il tampone molecolare e si partirà con il protocollo che quando andremo in piscina scandone playoff o qualsiasi altro impianto a cui ci appoggeremo ci sarà il protocollo della società oltre a quello della piscina dove noi ripartiamo in totale sicurezza quindi io credo che se uno ha la voglia le competenze e le la voglia di fare credo che non si possano mettere limiti va bene siamo giunti al termine della nostra chiacchierata ringrazio andrea scotti galletta per la sua disponibilità ed appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao andrea grazie grazie andrea un saluto a tutti